Nonno, dove buttiamo l'olio? Dove vuoi buttarlo? Dentro al lavandino? No! Non dovete buttarlo al lavandino! Venite a vedere questo video! No! Sì! Usa l'apposito contenitore, non fare questo errore! Lo sai che un solo litro di olio e sasto gettato nelle fognature non rende più potabile i milioni di litri di acqua, uccidendo così animali e pianta acquatica. Quindi, se vuoi smaltire correttamente il tuo olio, raccogli in un contenitore e portalo nell'isola ecologica più vicino a te. Ora che hai capito, abbiamo una missione da compiere. Conto su di te! Su, su, superolio ti aiuterà a salvare l'umanità! Più basso, più basso, più alto, più alto, perfetto! Nonna, ora ho capito cosa dobbiamo fare con l'oglio esausto! Wow! Grazie!